Una frazione abbandonata, è così che i cittadini di Santa Maria la Strada definiscono il loro paesino all'ingresso di Giare che si disloca su tre strade principali, via Ruggero I, via Sacerdote Penturo e via Ludovico Ariosto. Strade poco illuminate, segnaletiche non rifatte, villette abbandonate, semaforo pedonale guasto, lampioni non funzionanti e danneggiati. È così che si presenta la piccola frazione. Ai nostri microfoni, un residente, fa appello a un intervento dell'amministrazione comunale per risolvere le problematiche presenti. Per adesso vi sono molti problemi qui in questa piccola frazione, a partire dalla via Ruggero I che è quasi totalmente al buio nelle ore notturne in quanto vi sono molti lampioni che non sono funzionanti. A rendere il più pericoloso è il fatto che questi lampioni sono soprattutto posti nella corrispondenza delle stisce pedonali. Inoltre un'altra cosa molto pericolosa è sicuramente il fatto che il semaforo pedonale al momento non è funzionante, quindi bisognerebbe provvedere magari a sistemarlo. Poi vi è pure il fatto che le strade sono spesso sporche e che su ben due villette che sono qui presenti in questa piccola frazione neanche una di queste è fruibile e pulita, mentre si potrebbe fare di più, si potrebbe pulirle per rendere magari un luogo di incontro per i giovani. Cosa chiedete al sindaco? Magari che si ricordi di noi, che venga qui, venga a vedere i nostri problemi, venga a transitare nella via Ruggero I di sera, provi magari ad attraversare la via Ruggero I di sera e devo dire che è molto pericoloso, in quanto sono abitante in via Ruggero I, è molto pericoloso attraversare qui la sera. I problemi dell'acqua sono risolti? No, i problemi dell'acqua rimangono, vi è tutta la via Sacerdote Penturo che molto spesso, soprattutto adesso che arriva l'estate, sarà senza acqua, come avviene da anni, nonostante ripetute promesse, però questo problema è ancora persistente.